Allora siamo con Fabio qui ai provini di dove fa? Che provini sono? Angon...Dindon, che è? Agociane. Senti Fabio tu mi hai detto che hai fatto molta tv, è vero? Si. Con chi? Con... con Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Enrico Papi. Enrico Papi? Che hai fatto con Bonolis? Avanti un anno. Poi c'era Darwin pure no? Ciao Darwin, edizione 6. I palestrati. I palestrati? Contro i... I Loch Ness. I Loch Ness? Che anno te lo ricordi? Nel 2006. Nel 2006, quindi lo possiamo andare a trovare. Ciao Darwin. Ciao Darwin. Senti poi che hai fatto qualche altra cosa? Avanti un altro. Prima come balletta. Come balletta. Come balletta? E sei maschio? Balletto. Ah, come balletto? Balletto. Ma deve essere una donna no? Ciao donna. Ah, meno male. Bello c'è a Travasta. E poi... E' donna perchè mi ha chiamato questi concorrenti. E' come concorrenti. Ah, come concorrenti. E' arrivata una domanda della Diego. Cinema? Ah, cinema non ha mai fatto... No, piacerebbe fare cinema però... No perchè c'è un viso particolare no? Si, che è il numero uno. Proprio come si dice, la caratterizza no? Tipo quelle commedie anni settanta, ti ricordi? Si, si. Bombolo con... Bombolo con... Bombolo. Thomas Williams. Vabbè, allora in bocca al lupo per questo casting no? Qui alla... Come si chiama qui? Come si chiama qui? Assi Angon. Angon? Channel. Ah, Angon Channel. Ok, che c'è pure la Iena quella... come si chiama? Luci? Luci. Luci, con la L no? Luci. Ok, grazie. Siamo, tu sei di Albano, ma siamo Ossia con lì c'è il mare in sottofondo. Siamo Ossia. Il mare è impetuoso al tramonto, salì sulla luna, la luna ancora c'è no? Ok, ciao grazie Paolo. Prego.